Senza bavaglio, informazione libera, sempre. Fare informazione significa anche e soprattutto dire la verità, evidenziare ciò che non funziona proprio con il fine di apportare migliorie a quelli che sono i disservizi. E quando parliamo di disservizi, di malfunzionamento, il pensiero va alla sanità. Ritengo che non sia corretto, come spesso si suol dire, mettere la polvere sotto il tappeto e nascondere l'evidenza dei fatti, soprattutto quando parliamo di problematiche sanitarie. Vengo al dunque. Siamo qui con il signor Girolamo Guercio, un cittadino di Taranto, il quale ci racconterà la sua storia sanitaria, quello che è successo, dove noi esprimiamo il nostro applauso ai medici, al personale sanitario in generale, però poi bisogna vedere anche le strutture proprio fisiche, le strutture in cui gli operatori sanitari operano. E allora, Girolamo, raccontaci, hai sottolineato questa situazione, raccontaci tutto. Sì, buonasera. E allora, signor Abbati, io l'ho chiamata soltanto per rimarcare questo fatto. Al di là di quello che lei ha detto, un plauso ai medici, ai due dottori che mi hanno operato a Grottaglie. Parliamo di una problematica dermatologica, presenza di cisti. Alla chirurgia plastica. Allora, prima la visita, ho passato la prima visita al padiglione Vinci. Del Santissimo Annunziato. Del Santissimo Annunziato. L'intervento l'ho subito a Grottaglie, all'ospedale. Niente da dire sui due dottori magnifici. È inutile fare propaganda perché non sarebbe superfluo farlo. Ma è giusto apprezzare questi medici che fanno il proprio dovere in pieno? Diciamo che hanno lavorato benissimo perché purtroppo erano grandi le cisti e sono stato due ore sotto i ferri, la cicatrice è questa, per poter risolvere. Hanno dovuto scavare? Sì, sì. Una cinquantina di punti me le hanno messe. Allora, al momento poi lì è tutto a posto, torno a Taran, tu dici ci vediamo venerdì per la visita, la prima visita al Santissimo Annunziato, sempre al padiglione Vinci. Benissimo, vado io, mi accompagno. Per le medicazioni. Per le medicazioni, certo. Quindi ricapitoliamo. Queste cisti fa la visita al Santissimo Annunziato, viene poi ricoverato per l'intervento all'ospedale di Grottaglio, viene operato, dopodiché viene dimesso e si dice ora dovrei fare le varie medicazioni. Le medicazioni le fa al Santissimo Annunziato, al padiglione Vinci. Dove mi hanno fatto la prima visita, pancia in giù perché logicamente la ferita è dietro il collo, a un certo momento con l'occhio vedo l'infermiera che assiste il dottore con la torcia del telefonino per far di luce. Mi ha esagerato il dottore prima di mettere la mano, ma che sta succedendo? Ha fatto noi, purtroppo, operiamo in questa situazione. Quindi io non conosco i termini tecnici, però in buona sostanza occorreva una lampada di quelle che si usano nelle strutture sanitarie proprio per illuminare appieno la zona e quindi per vedere come ripulire, cosa ripulire, essendo appunto una medicazione. Però si trova la torcia del cellulare. Sì, vedevo l'infermiera con una mano che teneva il telefonino, logicamente con la torcia accesa e con l'altra che passava l'acqua ossigenata, l'ovatta, mi hanno tolto i drenaggi, la pinzetta per ogni metà. E si è detto, ma qua siamo nel terzo modo, perché poi a ritroso vediamo che è una stanzetta di 3 metri quadri, non lo so, io inviterei qualcuno ad andare a vedere dove erano queste persone. C'è un lettino, una scrivania e un armadietto con quello che occorre per poter fare le medicazioni. Però quello che ho notato io è che purtroppo c'erano due persone prima di me, una era su una sedia a rotelle, non di gente dell'ospedale, cioè fuori esterna, che doveva farsi delle medicazioni, si sarà operata pure lei. E poi l'altro, purtroppo, dobbiamo dire purtroppo perché la realtà di Taranto è questa, c'era una bella signora senza capelli e cosa che stava... La paziente oncologica. Stava, ecco, bravissimo, logicamente sotto chemio, stava... E questa qua, se parliamo che non ci sono le difese immunitarie, questa signora è entrata in questa stanza dove prima di lei è entrato uno con la carrozzina, carrozzina venendo da fuori. La carrozzina ha a che fare con la strada e quindi assume, assorbe i vari germi e quant'altro. Lascio immaginare, io non metto, però lascio immaginare che cosa succede, che cosa può succedere. Poi sono entrato io, logicamente, l'unica cosa che fanno è che cambiano il lenzuolo sul lettino. Noi operiamo in questo, io dico, un dirigente sanitario non sa come operano questi signori della chirurgia plastica, in che situazione li fanno operare, non penso che in tutto l'ospedale non ci sia, può darsi pure che la stanza dove tengono quelle delle pulizie, gli stracci, le scoperte sia più grande dello stanzino dove questi signori sono costretti ad operare dalla mattina alla sera, tanti pazienti che vanno perché purtroppo subiscono una patologia. Quando Girolamo hai evidenziato queste cose, hai sottolineato queste difficoltà oggettive esistenti ai medici, i medici giustamente hanno detto questo passa il convento in buona sostanza. Allora mi sono permesso di chiamarla per evidenziare questo fatto, un dirigente sanitario a Taranto sa in che condizioni lavorano queste, o è superflua questa situazione di città, la chirurgia plastica a che serve? Però non mi sembra a che serve, in quanto operano anche su persone che sotto chemio non penso che sia una struttura superflua. Al di là di tutto comunque, si fanno gli interventi, non è che si fanno per gioco o fatti alla bella e meglio? Ma se poi li facciamo stare in questa situazione di intervento a lavorare, tutto quel lato positivo viene a cadere, non per i dottori, ma per l'amore del cielo, io li ammiro questi due dottori. I medici, il personale infermieristico merita il massimo rispetto, tant'è vero che mi pare anche che l'intervento, grazie a Dio, sia stato fatto bene. Io venerdì devo ritornarci perché mi devono togliere i punti e devo ritornare dove? La chirurgia plastica, non so se è al corrente, si trova al padiglione Vinci, al primo piano, dove c'è la mammografia, dove sono tutte donne, anche incidenti che devono sopperire alla loro situazione. È uno stanzino, ti ripeto, di 3-4 metri quadri, ma è un bugicattolo. Può essere che non c'è una stanza idonea, atta per questa chirurgia plastica. Ma la cosa che più mi sconvolge, oltre a questo che è un fatto gravissimo, è proprio la questione della mancanza della lampada, cioè ridursi col telefonino, non sappiamo se non fosse una cosa seria, rideremmo certamente. Io mi sono messo a ridere perché pensavo, ma scusate se non ci avessero inventato, parlo come facevano? Come gli uomini primitivi, sfregando le pietre e facendo la scintilla. Non parlare in dialetto perché è venuto spontaneo questo fatto, ma scusa se non inventavano una torcia con il telefonino. Lei come operava, dottor? Punto interrogativo. Dice, purtroppo ha allargato le braccia, questo passa il convento. E allora, Girolamo, intanto noi ti ringraziamo perché questi casi non sono un qualcosa di legato al singolo, alla singola persona, perché quello che ha subito Girolamo, le condizioni, l'ha subito la paziente sottoposta a chemio, che è un fatto ancora più grave. Allora, vedere già una città come Taranto, maledetta dall'ilva e dall'inquinamento, a queste disgrazie si devono aggiungere questi disservizi che incidono a livello di sicurezza sanitaria. Ma al di là di questo, dico, è possibile che nel 2018, 19, tra poco, ecco, non si sia capaci di avere uno strumento atto a illuminare. Non so, ripeto, la terminologia tecnica. Ma è una stanza idonea, anche una stanza idonea, perché per poter entrare questo col carrozzino, abbiamo sentito noi il rumore da fuori, hanno spostato il lettino e la scrivania... Alla faccia delle barriere architettoniche, dell'abbattimento delle barriere architettoniche. No, non entrava, lo spazio è minimo in questa stanza, io ribadisco questi, questi stanno in una stanza di tre metri qua, questa col carrozzino, hanno spostato il lettino e la scrivania per poterla fare entrare. Allora, io... Anche questo è da dire. Ecco, Girolamo, io ti dico questo, non è un fatto che riguarda la persona, ma riguarda ciascuno di noi, perché tutti sotto il cielo stiamo e tutti possiamo incappare in una situazione del genere. Allora, io, siccome sono una persona di parola e penso in 20 anni di attività di averlo dimostrato in pieno, mi rivolgerò all'URP, Ufficio di Relazioni col Pubblico, al Dottor Giovannetti, mi metteranno in contatto con il Direttore Generale, che peraltro conosco, stimo l'Avvocato Stefano Rossi, Direttore Generale dell'ASL di Taranto, e sottoporrò questa situazione. Una stanza idonea a questi dottori, perché meritano quella stanza idonea, perché sono bravissimi e gentili anche, sia l'infermiere, il paramedico che il medico. Ma oltre questo, quindi parliamo di una problematica di strumentazione e logistica, mi rivolgerò anche al Governatore Emiliano, perché ovviamente vi è la responsabilità della sanità in capo alla Regione Puglia, perché a un certo punto l'ASL, sto parlando in teoria, potrebbe dire ma se queste sono le dotazioni regionali, io più di tanto non posso fare. Allora andiamo per gradi. URP, Direttore Generale dell'ASL, Governatore della Regione Puglia. E così avremo un quadro completo, perché, ripeto, questo episodio non abbia più a ripetersi, perché, ripeto, non è un caso di malasanità assolutamente, ma è un problema proprio oggettivo di strumentazione, di organizzazione fisica, logistica, che continuerà a perpetrarsi in eterno, sino a che ovviamente noi non porremo un freno. E con questa intervista abbiamo cercato di illuminare, senza la torcia, ma con la torcia dell'intelligenza, perché, viva Dio, lavorare con il cellulare. Immaginate l'infermiere che deve illuminare e fare la medicazione. E contemporaneamente passava l'acqua ossigenata, le pinzette, perché, ripeto, mi hanno tolto il drenaggio, la disinfettazione della ferita, praticamente. Quindi questo è accaduto nel padiglione dell'ospedale Santissimo Annunzio, da primo piano. Settore chirurgia? Chirurgia plastica. Chirurgia plastica. Va bene, e allora Girolamo, noi non ci fermiamo qui, facciamo come si suol dire il nodo al fazzoletto, ci confronteremo con il Direttore Generale, con il Governatore, poi ritorneremo e cercheremo di far sì che la tua esperienza sia stato uno strumento per risolvere il problema. Venerdì ci devo tornare perché mi dovrebbero togliere i punti. E beh, venerdì, logicamente, troverò la stessa situazione, perché non è che cambierà dall'oggi al domani. Però almeno... Mi auguro per il futuro degli altri pazienti che purtroppo saranno, dico purtroppo, subiranno qualche operazione. Bene, Girolamo, intanto ti ringraziamo e soprattutto in bocca al lupo per una guarigione che è già in atto. Ok, vi ringrazio. Buonasera. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.